Un'azienda di trasporto pubblico che rifiuta il confronto con le parti sociali e che rilascia dichiarazioni non veritiere. Chiediamo pertanto l'intervento del presidente della regione Marco Marsiglio. Così i segretari regionali della Filt CGL Franco Rolandi, della Filt CISL Andrea Maschitti, della Wiltrasporti Vincenzo Marco Tullio e della Faisa CISAL Luciano Lizzi, replicando alle dichiarazioni di Gianfranco Giuliante, presidente di TUA. Incontrando la stampa a Pescara hanno parlato dei concorsi, del bilancio e dell'utilizzo di lavoratori interinali della società di trasporto pubblico abruzzese. Furono fatte dichiarazioni in merito a un piano di assunzione di 127 operatori, diluito in due anni, 2022 e 2023, e in quella circostanza fu fatto esplicito riferimento a un contratto di apprendistato. Questo è successo ad ottobre. Ora, sostenere che a giugno c'era un accordo del quale noi non abbiamo traccia, noi abbiamo soltanto l'accordo che è stato depositato presso il Ministero del Lavoro che dice tutt'altro. Ora, sostenere che ci sia un accordo con le parti sociali dove noi avremmo convenuto di ridurre il salario a persone che hanno già una formazione, che quindi hanno già operato all'interno delle aziende di trasporto e si possa pensare di trattarli al pari di chi deve essere invece formato, questa cosa è assolutamente inaccettabile. Noi chiediamo un bando di concorso aperto a tutti, che permetta a tutti i professionisti e il trasporto pubblico locale di essere assunti a tempo indeterminato con il riconoscimento di entrambi i contratti nazionali e aziendali e che permetta quindi la partecipazione di questi lavoratori, anche i somministrati, che sono stati sottopagati per due anni e sfruttati nel periodo pandemico. Spero che l'ultimo bilancio è stato chiuso con un attivo di 15 mila euro, ma vorrei ricordare al Presidente Giulianti che da quando è nata l'azienda regionale tua sono sei bilanci che chiude sempre in attivo, ma oltretutto vorrei dire che in questi anni si sono persi 300 posti di lavoro, prima veniva erogata con la passata amministrazione un premio di risultato di produzione per tutti i lavoratori che costavano 1 milione e 400 mila euro per le casse dell'azienda e oggi questa cosa non viene più data. Da un numero complessivo di 1.600 dipendenti siamo passati a scars 1.300 dipendenti. Un lavoratore interinale che fa lo stesso lavoro di un altro viene pagato molto di meno, stiamo intorno ai 6 euro a ora e non quello che dice il Presidente, 15,80 euro, quelli sono i costi aziendali, vengono pagati circa 6 euro, 6,50 euro a ora. Questo stiamo ai limiti dello sfruttamento, cioè voglio dire noi dovremmo avallare il fatto che chi entra oggi a lavorare non debba avere la retribuzione accessoria così come fanno con gli interinale. Ci dispiace ma noi questo non lo possiamo mai avallare, utilizzeremo tutti gli strumenti in nostro possesso proprio per scardinare questo sistema abberrante.